Ivo Caizzi del Corriere della Sera, ritornerei in Europa per valutare che anche in questo Consiglio dei capi di governo si è fatto molto per le banche e tirando le somme molto poco per la crescita dell'occupazione, soprattutto per l'occupazione che pure era all'ordine del giorno con il cosiddetto patto per la crescita dell'occupazione. Non crede che questo provocherà delle conseguenze tra gli elettori e i cittadini nelle prossime elezioni europee in generale per quella che è l'immagine dell'Europa e in particolare per il partito che lei rappresenta. Un'altra domanda se posso aggiungere, il Presidente Obama ha mostrato al mondo come si combatte la grande evasione fiscale con il programma FATCA e con una strategia di siamo aggressiva che lei ha visto appagato in maniera efficace anche con la Svizzera, con il segreto sbancario svizzo. Lei ha richiamato un provvedimento imminente che ha l'aria di essere l'ennesimo condono. Ci può smentire che non si tratta di condono e spiegare perché non seguiamo semplicemente l'esempio del Presidente Obama nella lotta alla grande evasione fiscale. Su questo secondo punto, il suo è un processo alle intenzioni, come fa a sapere cosa sarà? Ci sono dei rumors. Lei segue i rumors. Guardi i fatti, quando usciranno, il provvedimento lo sta mettendo a punto un gruppo di lavoro guidato dal procuratore aggiunto di Milano, Francesco Greco, ed è un provvedimento e sarà un provvedimento forte per riportare in Italia capitale illegalmente esportati e sarà un provvedimento significativo e importante perché metterà fine a un percorso. Io stesso andrò in Svizzera a gennaio per parlare con le autorità svizzere perché ritengo che lì dentro, lì in Svizzera, ci sia un tesoro di soldi italiani e di soldi che devono tornare in Italia e devono tornare in Italia nelle modalità migliori perché si riesca a renderli utili per il nostro Paese. Ogni Paese è diverso e soprattutto i tempi sono diversi. Io devo agire oggi, ormai 2014. Altri hanno potuto agire in altri tempi e quindi hanno potuto usare tempistiche diverse e modalità diverse. Sono convinto che il lavoro che faremo e che stiamo facendo nei confronti della Svizzera e di altri Paesi nelle condizioni della Svizzera porterà i suoi risultati e sarà un lavoro che rappresenterà un grande sforzo di equità nel nostro Paese, un Paese che su questi temi invece nel passato è stato molto poco eco e ha premiato tante volte i furbi. Ho un'interpretazione diversa rispetto alla domanda che lei ha formulato. Lei dice che questo Consiglio europeo ha fatto tanto per le banche e non è così. Io la dico in tutt'altro modo e sono convinto. È stata la crisi degli ultimi anni che ha fatto sì che i cittadini europei sono stati costretti a pagare tanti soldi per ricapitalizzare le banche. Oggi noi stiamo facendo con la Unione bancaria una riforma fondamentale per i cittadini che invece tre anni fa, quattro anni fa hanno dovuto mettere un sacco di soldi per salvare le banche che erano fallite. Quindi noi oggi stiamo facendo un'Unione bancaria che è per i cittadini, per i risparmiatori, per i sistemi nazionali che hanno pagato tanto in passato le crisi bancarie che noi oggi con l'Unione bancaria cerchiamo di evitare. Quindi l'intervento non è per le banche anche perché gran parte di questi fondi saranno finanziati con gli interventi delle banche stesse. Quindi noi stiamo facendo una cosa per i cittadini, per i risparmiatori, per evitare che gli errori delle banche nel passato li ricadano addosso e finiscano addosso a loro per essere un colpo ai cittadini in quanto correntisti, ai cittadini in quanto contribuenti fiscali. Tutte queste categorie hanno pagato pesantemente l'assenza di unione bancaria. Quindi come vede, come la racconto e come la vivo, come la vedo ed è il motivo per il quale ci siamo tanto impegnati, è tutt'altro che un regalo per le banche. Regali per le banche sono stati quelli che negli ultimi anni il sistema ha dovuto dare, banche fallite, hanno pagato i cittadini, hanno pagato le imprese, hanno pagato i risparmiatori. Oggi con questa scelta invece noi riusciamo a far sì che cittadini, risparmiatori e imprese riescano ad essere tutelati. Non era all'ordine del giorno del Consiglio di oggi. Lei conosce la vita europea, sa benissimo che ogni Consiglio ha un tema. Quindi questo tema era il cuore insieme a quello sulla sicurezza e la difesa del Consiglio di oggi e si sono fatti passi avanti importanti. L'anno prossimo sarà un anno in cui riprenderemo alcune delle scelte fatte a giugno, che erano centrate sull'occupazione, in particolare contro la disoccupazione giovanile. Le rilanceremo, come ho detto prima, perché sono convinto che il punto della lotta alla disoccupazione, in particolare quella giovanile, debba essere il punto centrale e sarà pilastro della nostra azione l'anno prossimo.